Le mie prigioni è un libro di memorie, scritto da Silvio Pellico. Fu un caso editoriale nell'Ottocento, divenendo il libro italiano più letto in Europa e tradotto in tutte le lingue. Il primo ministro austriaco, Meiternich, ammise addirittura che il libro danneggiò l'immagine dell'Austria più di una guerra perduta. Si articola in un arco di tempo che va dal 13 ottobre 1820, data in cui l'autore venne arrestato a Milano per la sua adesione alla carboneria, al 17 settembre 1830, giorno del suo ritorno a casa. L'opera fu cominciata al rientro in Italia nel 1831 e pubblicata nel 1832, eludendo la severa censura del tempo. Nelle mie prigioni il Pellico descrive la sua esperienza di detenzione, prima ai Piombi di Venezia. Questa è l'antica prigione dei Piombi, con il famoso Ponte dei Sospiri, che è detto così secondo un'antica definizione di Lord Byron, non per motivi romantici, ma perché su quel Ponte vi trascorrevano l'ora d'aria i detenuti. Vi furono rinchiusi come prigionieri politici anche Niccolò Tommaseo e Daniele Manin. E poi nel carcere dello Spielberg, assieme all'amico Piero Maroncelli, dopo che la condanna a morte fu commutata in detenzione al carcere duro. Se a Milano è a Venezia, ai Piombi, il carcere poteva sembrare accettabile, quello dello Spielberg era un carcere duro e disumanizzante nelle intenzioni dei vertici austriaci. Ma nello Spielberg, vicino Brno, in Moravia, oggi Repubblica Ceca, i soldati carcerieri non erano austriaci, erano cechi, slavi e di altre nazionalità. E conoscevano forse personalmente il sentimento patriottico, intollerante della dominazione straniera. Nella descrizione dei lunghi anni di prigionia si rivelano i tesori spirituali, che sono frutto del dolore. La bontà, l'amore e l'umanità sono presenti anche dove non ci si aspetta che esistano, come per esempio nel carceriere Schiller, un vecchio burbero e scontroso, ma profondamente buono nell'animo, al quale ripugna il compito che deve assolvere, e lo assolve in modo straordinariamente umano. Cominciamo a leggere insieme il capitolo 67 delle mie prigioni. L'incomodo della catena ai piedi, togliendomi, cioè impedendomi di dormire, contribuiva a rovinarmi la salute. Schiller voleva che io reclamassi e pretendeva, cioè sosteneva, che il medico fosse in dovere di farmela levare. Chi era Schiller? Era il carceriere capo, che nasconde sotto una scorza di ruvidezza e scontrosità un cuore gentile e generoso, e lo dimostrerà trattando con umanità e simpatia il prigioniero. Per un poco non l'ascoltai, poi cedetti al consiglio e dissi al medico che per riacquistare il beneficio del sonno io lo pregava di farmi scatenare, cioè di farmi togliere la catena. Doveva essere il medico a stabilire che quella era una misura necessaria, almeno per alcuni giorni. Il medico disse non giungere ancora a tal grado le mie febbri che potesse appagarmi, cioè doveva aspettare che la febbre fosse più alta perché gli potesse far levare la catena, ed essere necessario che io mi avvezzassi, cioè che io mi abituassi ai ferri. La risposta mi sdegnò, mi fece irritare, ed ebbi rabbia di aver fatto quell'inutile domanda. «Ecco ciò che guadagnai a seguire il vostro insistente consiglio», disse a Schiller. «Conviene, cioè probabilmente gli dissi assai sgarbatamente quelle parole, quel ruvido buon uomo se ne offese». Capite perché parlò in modo sgarbato, pellico? Perché aveva ricevuto un di niego da parte del medico e lui ne era stato umiliato. E a questo punto Schiller risponde. «A lei spiace», gridò, «d'essersi esposta ad un rifiuto, e a me spiace che la sia meco superba». Poi continuò una lunga predica. «I superbi fanno consistere la loro grandezza in non esporsi a rifiuti, in non accettare offerte, in vergognarsi di mille inezzie, cioè di mille sciocchezze». «Ale se lion», vuol dire tutte cose insignificanti, tutte asinate, vane grandezza, ignoranza della vera dignità, e la vera dignità sta in gran parte in vergognarsi soltanto delle male azioni. Disse, uscì e fece un fracasso infernale con le chiavi. Rimasi sbalordito. Eppure quella rossa schiettezza, dissi, mi piace, sgorga dal cuore come le sue offerte, come i suoi consigli, come il suo compianto, la sua pietà. «E non mi predicò egli il vero? Cioè non mi ha forse detto la verità? A quante debolezze non do io il nome di dignità, mentre non sono altro che superbia?» Allora del pranzo Schiller lasciò che il condannato Kunda portasse dentro i pentolini. Il condannato Kunda era un altro prigioniero come Schiller, era un brav'uomo, che spesso era adibito alle funzioni di inserviente e spesso si era comportato gentilmente con il pellico. Dunque questo condannato Kunda portò dentro i pentolini con il cibo e l'acqua e si fermò alla porta. «Lo chiamai?» «Non ho tempo!» rispose asciutto asciutto. E la voce di Schiller, discesi dal tavolaccio, venne a lui e gli dissi «Se volete che il mangiare mi faccia buon pro, non mi fate quel brutto ceffo, cioè non mi fate quella faccia arrabbiata». «E qual ceffo a fare?» domandò rasserenandosi. «Duomo allegro, d'amico?» risposi. «Viva l'allegria!» esclamò. «E se perché il mangiare le faccia buon pro, vuole anche vedermi ballare, ecco la servita». E misesi a sgambettare con le sue magre e lunghe pertiche, sì piacevolmente che scoppiai dalle risa. Io ridea ed avea il cuore commosso. Abbiamo visto un carceriere che sgambetta per dimostrare tutta la sua solidarietà e tutta la sua amicizia nei confronti del prigioniero. E questo è inutile dirlo, dà un grande sollievo nell'animo di Silvio Pellico. Vedete la bontà, l'umanità e l'amore, la solidarietà possono essere presenti anche dove non ci si aspetta che possano esistere.